Presidente, è la facoltà. Sì, grazie Presidente. Sì, credo che la decisione che è stata condivisa all'interno della conferenza di Capigruppo sia assolutamente opportuna, sia opportuno in quest'Aula fare delle riflessioni, ovviamente politiche, su quello che sta avvenendo in Val d'Aosta, quello che sta avvenendo in Italia, che possiamo confrontarci sulle diverse problematiche che ovviamente tutti noi conosciamo. Io per darvi la possibilità di partire nella discussione, tutti diciamo dallo stesso piano di conoscenza della situazione, vi faccio brevemente un piccolo riassunto delle ultime interlocuzioni di ieri sera, o meglio più che interlocuzioni direi delle comunicazioni che ho ricevuto, perché poi di questo si tratta. Ieri sera, vi ricordate, in chiusura del Consiglio vi avevo dato una comunicazione che peraltro poi almeno in parte si è rilevata essere disattesa, ma io in quel momento lì avevo quelle informazioni e nello specifico la questione dell'entrata in vigore del DPCM. Il DPCM aveva un'entrata in vigore che era specificata già sul decreto stesso, che era quella della data di oggi, nelle verifiche che avevamo fatto ieri nella serata, insomma anche durante il Consiglio, anche con Roma, era emerso che oggi sarebbe entrato in vigore sostanzialmente il DPCM, così come previsto, e le ordinanze successive del Ministro della Salute riguardanti gli articoli 2 e gli articoli 3 sarebbero poi state fatte presumibilmente nella giornata di oggi. Poi come avete visto, anch'io ho avuto notizia pochi minuti prima che il Presidente Conte all'interno della sua conferenza stampa facesse diciamo la comunicazione a tutti, era emersa appunto questa volontà da parte del Governo di posticipare, ma io credo alla fine in maniera abbastanza intelligente, nel senso che era inutile partire oggi con un pezzo del DPCM, domani con il resto, però ecco, era solo per specificare che queste informazioni le ho avute sostanzialmente anch'io alle 20 e 20 quando il Presidente Conte, poco prima insomma, che il Presidente Conte parlasse. Ho avuto una telefonata del Ministro Speranza sostanzialmente alla fine del Consiglio, ieri sera, poco dopo, che mi informava sostanzialmente come previsto appunto l'articolo 2 e l'articolo 3 dell'IPCM che il Ministro della Salute fa delle ordinanze, ha sentito il Presidente della Regione, quindi ieri sera il Ministro mi ha chiamato per dirmi sostanzialmente che a partire da domani sostanzialmente la Valle d'Aosta sarebbe stata classificata nelle zone cosiddette rosse, nelle zone a più alto rischio per quanto riguarda la situazione pandemica. Questo solo per spiegarvi come sono andate le cose. Vi ricordate ieri vi avevo già spiegato invece le interlocuzioni che si sono state con il Governo, in particolare nelle persone del Ministro Boccia e del Ministro Speranza, nelle giornate di domenica, lunedì e martedì, per quanto riguarda invece la costruzione dell'IPCM, anche se di fatto, come avevo già avuto modo di dirvi ieri, sono state interlocuzioni dalle quali diciamo che il Governo non ha tirato queste gran conclusioni, ecco dal punto di vista delle osservazioni fatte dalle regioni, perché nella sostanza la maggior parte delle cose chieste dalle regioni, in particolare ricorderete il discorso di una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, eccetera, non sono state accettate. Quindi da lì ne è nato insomma delle prese di posizioni giustamente come quelle che abbiamo esplicitato noi ieri da parte un po' di tutte, da tutte le presidenze delle regioni, ovviamente con dei distinguo più o meno evidenti a seconda della gravità della situazione pandemica all'interno delle regioni. Ovviamente le questioni centrali sono i famosi dati, i famosi dati che vengono elaborati da questo comitato tecnico scientifico all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità e sono dati che ovviamente la regione trasmette, la regione della protezione civile a seconda del tipo di dati e trasmette giornalmente a questo istituto, questo istituto elabora questi dati in maniera analitica per poi arrivare a delle conclusioni. Come vi ho spiegato ieri, si usano due aspetti fondamentali per arrivare poi a un'analisi conclusiva. Una è il famoso indice RT, come abbiamo ormai imparato tutti, spiega un pochettino come va l'andamento del contagio all'interno del territorio. E poi ci sono tutti gli altri fattori, i famosi 21 fattori di rischio, che sono questi invece poco statistici, nel senso che sono elementi che fotografano la situazione della regione e tengono conto, ad esempio, come vi ho detto ieri, della situazione del carico ospedaliero, piuttosto che del carico delle terapie intensive, piuttosto che della situazione del contact tracing, cioè di come viene fatto il tracciamento dei contatti, eccetera. Su questi dati effettivamente la situazione in Val d'Aosta è complicata, lo sapevamo, quindi diciamo che nella sostanza, il fatto che siamo stati classificati nella zona rossa era una cosa che ci potevamo aspettare, sapevamo di essere invece abbastanza sul limite per quanto riguarda invece gli scenari di rischio che tengono conto invece del famoso indice RT, perché negli ultimi giorni, nell'ultima settimana in particolare, il nostro indice RT era migliorato e quindi c'era la possibilità che questo indice RT scendesse significativamente in questi giorni, quindi a seconda poi dei dati che il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe preso in considerazione, c'era anche la possibilità di essere inquadrati in uno scenario di rischio intermedio. Quello che abbiamo chiesto in maniera molto chiara, questo già nella giornata di domenica di lunedì, quindi prima ancora degli ultimi sviluppi, le regioni hanno chiesto a gran voce di avere questi dati, cioè di avere proprio i fogli di calcolo usati dal Comitato Tecnico Scientifico per raggiungere una decisione, per raggiungere un collocamento della regione all'interno dei vari fattori. Quindi questo l'abbiamo ribadito ancora ieri nelle interlocuzioni che abbiamo avuto e questo credo che sia importante per avere innanzitutto una chiarezza di perché siamo attualmente in questa zona rossa. Perché credo che questo sia un aspetto che va assolutamente messo come punto di chiarezza verso i cittadini, perché se uno legge i giornali, i giornali insomma a seconda delle varie testate danno delle interpretazioni molto diverse, hanno delle situazioni, degli scenari, insomma. Quindi i numeri sono belli perché non si prestano interpretazioni. Quindi il fatto di avere le tabelle e chiarezza su come questi calcoli vengono fatti credo che sia un aspetto che giustamente le regioni e noi anche abbiamo richiesto a gran voce. A questo punto è chiaro che siamo inseriti in questa fascia di rischio alto, quindi quello che dobbiamo sicuramente impegnarci a fare in questi 14 giorni, perché saranno almeno 14 giorni, come sapete, diciamo di collocazione della nostra regione all'interno di questo scenario, dobbiamo fare tutto quanto nelle nostre disponibilità, nelle nostre possibilità, per cercare di migliorare innanzitutto la situazione sanitaria della nostra regione e essere ricollocati in scenari di rischio meno stringenti per l'economia. Quindi questo ovviamente lo possiamo fare attraverso le buone pratiche che ormai tutti conosciamo, quindi anche da questo punto di vista credo che sia poi importante anche una campagna informativa rispetto alla popolazione, di quanto sia importante questo sforzo che tutti insieme faremo in questi 15 giorni, sperando che rimangano solo 15 giorni e non siano di più. Ovviamente l'obiettivo, dicevo ovviamente, innanzitutto l'aspetto sanitario, ma non solo, perché poi dopo l'aspetto sanitario, o direi insieme all'aspetto sanitario, c'è tutto il mondo economico che aspetta ovviamente di avere delle risposte. Ovviamente queste risposte si possono dare se, diciamo, la base sanitaria arriva a una situazione di, non dico di normalità, ma di gestibilità che possa dare delle prospettive, insomma, perché sappiamo benissimo che siamo legati nella nostra economia al settore turistico in maniera ovviamente importantissima, siamo alla vigilia di quello che è sicuramente il mese o i mesi più importanti dell'anno per quanto riguarda l'ambito turistico. Quindi lo sforzo che faremo in questi 15 giorni sarà assolutamente fondamentale per il futuro che ci sarà nei mesi seguenti. Quindi è chiaro che il mondo economico è in apprezzione, perché questa ulteriore chiusura così importante mette ovviamente a dura prova tutti i settori economici, quindi anche su questo la politica dovrà fare i suoi ragionamenti, che stiamo già lavorando anche lì, in queste interlocuzioni, diciamo così, che abbiamo avuto in questi giorni. Questo è stato l'altro aspetto che è stato sottolineato in maniera evidente da tutte le regioni, cioè il fatto di avere certezze sui ristori, sulla tempistica e sull'entità dei ristori. Il decreto legge, anche ieri, se avete sentito, credo l'abbiate sentito tutti, l'intervento del Presidente Conte, sarebbe dito che già in questa settimana probabilmente faranno, insomma, questo famoso decreto legge che definirà un po' tutto l'ambito di attività di questi ristori. Anche su questo credo che la nostra regione in particolare, essendo classificata in zona rossa, devono essere anche, diciamo, le contromisure di tipo economico commisurate all'entità delle restrizioni che dobbiamo sopportare, diciamo così, soprattutto nell'ambito economico. Questa mattina, in realtà, già poi ieri sera, come governo, abbiamo fatto delle prime riflessioni, dei primi ragionamenti, per cercare di callare questo DPCM alla realtà regionale, alla realtà del nostro territorio, perché questo l'abbiamo già detto un pochettino tutti, anche ieri, nel dibattito, insomma, delle situazioni che stiamo vivendo, che il nostro territorio, ovviamente, ha una connotazione anche territoriale, oltre che come tessuto sociale e economico, ovviamente che è molto diverso da una realtà cittadina, o comunque delle grandi città metropolitane. Quindi anche le misure che vengono imposte hanno una ricaduta diversa. Quindi stiamo cercando, abbiamo già chiesto anche all'ufficio legislativo, all'avvocatura regionale, di fare dei ragionamenti su delle possibili, diciamo, almeno interpretazioni del DPCM, perché sapete che, diciamo, interventi ampliattivi non sono fattibili, però almeno delle applicazioni corrette, delle norme che sono inserite nel DPCM sul nostro territorio, questo credo che si possa fare e in queste ore ci lavoreremo. Il dibattito che faremo adesso, credo che possa essere utile anche in questo senso, le cose che abbiamo già messo sul tavolo questa mattina in giunta, sono, tanto per darvi anche degli spunti per la discussione, sono ad esempio le questioni legate alla didattica a distanza, che per la nostra realtà hanno delle repercussioni un pochettino diverse, soprattutto sugli istituti professionali, dove effettivamente c'è necessità di una presenza fisica degli alunni in classe, penso agli istituti alberghieri, piuttosto che altri istituti. Abbiamo pensato poi alle problematiche relative alla ristorazione e agli alberghi legati al mondo lavorativo, perché, come sapete, il DPCM prevede che i servizi di mensa, piuttosto che i servizi di ristorazione legati agli ambiti lavorativi, siano garantiti. Questo va calato nella nostra realtà, nelle vallate laterali, in cui ci sono delle attività lavorative che devono per forza andare avanti per garantire servizi o per garantire le aperture, ad esempio, delle stagioni invernali, degli impianti, eccetera, e su questi bisogna dare la possibilità, appunto, in qualche modo a chi lavora di poter anche stare sul territorio, quindi bisogna capire come attivare, diciamo, un servizio di ristorazione e anche di pernotamento che permetta di poter lavorare. Altri aspetti di cui parlavamo è l'attività sportiva. Questo è stato un argomento che già nel primo lockdown è stato patito in maniera particolare all'interno del territorio valdostano, laddove viviamo in mezzo molto spesso alla natura, al di là delle realtà un pochettino più cittadine, insomma, ma abbiamo ampissimi spazi di libertà, per fortuna, insomma, e la bellezza del nostro territorio, quindi le restrizioni, diciamo, di movimento intorno a casa, molto spesso, almeno nelle realtà più agricole, diciamo così, più di montagna, sono restrizioni che francamente non hanno molto senso, no? Quando passeggiando su un sentiero l'unico rischio è quello di incontrare un camoscio, una marmotta, ecco, dobbiamo trovare, diciamo, dei correttivi che vadano nella direzione corretta. C'è poi la questione delle elezioni di Courmayeur, di domenica, che vanno assolutamente riservate, ovviamente con tutte le garanzie di una gestione sicura delle operazioni di voto. È stato aggiornato anche ieri il protocollo che riguarda invece il voto a domicilio di tutte le persone, che ahimè anche a Courmayeur sono qualche decina, isolate o per quarantena o perché sono risultati positivi, quindi per garantire innanzitutto la possibilità di un'espressione democratica del voto, che è la prima cosa da garantire, ovviamente sempre fatta a salvo la sicurezza sanitaria, e poi dare la possibilità comunque di poter svolgere le elezioni in sicurezza. Quindi questi sono alcuni degli aspetti che stiamo analizzando con gli uffici per capire come inserire in un'ordinanza che io vorrei fare nella giornata di oggi, in modo che domani, quando si parte con l'applicazione del DPCM, sia già anche l'ordinanza in qualche modo operativa e dia chiarezza almeno su alcuni punti. Questo credo che sia assolutamente importante, poi credo che nella giornata di oggi sia poi anche importante fare una comunicazione ai valdostani fatta in maniera il più chiara possibile, anche se sappiamo molto bene dall'esperienza che abbiamo vissuto nel lockdown primaverile, che poi tutti gli aspetti e tutte le casistiche verranno fuori man mano e bisognerà dare in qualche modo delle risposte.